Buon viaggio, ben trovati ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini studio. Traffico ralentato sulla A1 tra il Bivio A1 variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna, mentre in direzione Roma ancora in A1 tra Incisa Reggello e Valdarno c'è un veicolo in avaria. Passiamo alla 12 tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti materiali dispersi per una perdita accidentale in direzione di Genova. Sulla Firenze Pisa Livorno all'Astra signa coda per viabilità esterna che non riceve in uscita da Firenze. E ancora sulla FIPILI tra il Bivio SGC di Ramazione Pisa e Lavoria c'è un veicolo fermo in direzione di Livorno. Per i treni il 19473 Pisa Piombino cancellato, viaggiatori con il 18287 che ferma a Dantignano e poi bus da Campiglia a Piombino Marittima. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.